Questo momento doveva arrivare la nostra classifica di Metal Gear Solid Dal più brutto, tra virgolette, tra virgolette, no, ce n'è uno che è un po' bruttino veramente Al più bello, sono 10 posizioni, anche se le prime due sono praticamente a pari merito Ma ne parleremo Non potrò mettere spezzoni, come ben sapete con le cose Konami è un po' un problema Ma con Metal Gear soprattutto vi metterò qualche immagine, qualcosa che ne inventavamo come sempre E partiamo col decimo posto dove ho messo Che ci potevo mettere al decimo posto Sono esclusi i spin-off, i principali, quelli un po' più significativi Decimo posto, Metal Gear Survive Se non fosse mai esistito il mondo non se ne sarebbe neanche accorto Devo anche commentarlo Un tentativo di rilanciare un brand dopo l'addio di Kojima Che ci saremmo serenamente risparmiati Un travaso di bile per molti Un momento di tristezza per tanti altri Insomma, Metal Gear Survive Decimo posto, meritatissimo Nono posto, Metal Gear 2 Metal Gear 2 Quello vecchio 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 Titolo che così come il mio ottavo posto Metal Gear Non sono mai riuscito ad apprezzare Perché è troppo giovane Se vogliamo, no? Sono prodotti che sono praticamente nati quando sono nato io E di conseguenza non li ho mai giocati Cioè non li ho mai giocati nel contesto in cui li avrei dovuti giocare Li ho recuperati dopo e per forza di cose L'evoluzione tecnologica era tale che non me li ha fatti godere Come avrebbero magari meritato di essere goduti Due prodotti validi Che raccontano il mondo di Metal Gear nei suoi albori Che io sogno da tempo in memory Di rivedere, riproposti attraverso dei remake moderni Se facessero oggi un remake di Metal Gear e Metal Gear 2 Io lo pagherei anche 400 euro Settimo posto La coppiata Metal Gear Solid Ground Zeroes e The Phantom Pain Due produzioni controverse, criticate, massacrate, discusse, elogiate, amate Hanno suscitato un arcobaleno di sentimenti diversi E sinceramente mi sono trovato allineato a tutti questi sentimenti Cioè sembravo schizofrenico Quando ho giocato Perché effettivamente delle parti le ami, delle parti le odi Io ricordo con Ground Zeroes Un'opera commerciale un po' furbetta Perché effettivamente ci hanno venduto una demo A conti fatti Che io però ho consumato L'ho giocato 74 volte Ma rigiocherei anche adesso Così come The Phantom Pain Che sì, quel finale doloroso Ma l'esperienza l'ho trovata meravigliosa Meravigliosa Sarà che la parte narrativa mi ha lasciato veramente qualcosa nel cuore Sarà che alcune scene le ho trovate indimenticabili Insomma sono valse il prezzo del biglietto Per come la vedo io Prodotti che avrebbero forse meritato miglior sorte Ma ci ricordiamo bene che insomma Quei due prodotti Nacquero a cavallo di un divorzio Ecco e quindi I figli ne hanno risentito Come spesso tristemente accade Sesto posto Metal Gear Solid Peace Walker Allora titolo Fortemente sottovalutato dai più Che ha avuto Una rinascita successiva Grazie alle riproposizioni Titolo che ho apprestato tanto Perché racconto una parte di Metal Gear Solid E della saga in generale Che è spesso sottovalutata e trascurata Le basi un po' di questa serie Nascono con quanto si vede in Peace Walker A livello narrativo Ed è molto interessante per chi ama il brand Per chi in qualche modo Si trova a voler conoscere ogni sfumatura di tutto quanto Ecco Quinto posto Metal Gear Solid Revengeance Allora ci ho voluto mettere questo qui E poi ah come hai potuto Già ve sento Per reazione Perché fu criticato Massacrato Con una sorta di schifezza Cosmica In realtà non lo era In realtà non lo era Forse è l'unico spin off Degli ultimi 15 anni Degno di nota Ben contestualizzato Con una sua Logica Perché racconta una parte Della vita di Raiden Non Gianluca di Paira Inside Di Raiden Quello di Metal Gear Importante A livello narrativo Importante a livello Di contesto Anche affascinante Da poter vivere Ed era un gioco fatto bene Cioè come Come action Diamine Ma Anche solamente Dico una gretinata La La tecnologia Alla base Dei fendenti Che ti permetteva Di tagliare a fette tutto È una figata Pazzesca Anche oggi Lo sarebbe Non me ne escludo Di portarvelo Magari in live Per approfondire Un po' Il discorso Gioco Secondo me Divertentissimo Niente a che fa Con la classe Di Metal Gear Ma Divertente Ecco Che è una cosa Che spesso Dovrebbe anche Rappresentare Un fattore Fondamentale Breve integrazione Per Metal Gear Solid 4 Che mi ero Dimenticato Nella TRS Quindi l'ho Inserito Successivamente Tra Metal Gear Solid Revengeance E quello che state Per vedere Metal Gear Solid 4 È uno dei prodotti Che nonostante La mia Il mio momento Di amnesia Ho apprezzato di più Anche se Non ne conservo Ricordo Poi così Incredibile Così indimenticabile Perché mi ha fatto Soffrire tantissimo Metal Gear Solid 4 È quello che mi ha messo Più tristezza È quello che mi ha messo Più amarezza È quello che mi ha dato Più angoscia In certi momenti Perché effettivamente Racconta Il mondo Di Metal Gear In maniera Molto più Dura Molto più Amara E Tutto quello Che lo compone Trasmette Un certo senso Di tristezza Che negli altri Metal Gear C'è Ma non così In marcato Cioè tu percepisci Metal Gear Solid 4 Un po' di rassegnazione Un po' di Ormai No? Ormai Ecco Quello ormai In una serie Con Metal Gear Che io amo La follia Mi ha un po' distrutto All'epoca In senso lato Chiaramente Però È un titolo Che ricordo In maniera dolce e amara Nonostante Tecnicamente Fosse Una scoperta meravigliosa Perché appunto Se ben ricordate Fu il titolo Con cui all'epoca Metal Gear Fece un enorme salto Davanti A livello Puramente Tecnico e tecnologico Per cui Diciamo che Creò Particolari interesse Anche per quello Ma Diciamo Fu una maturazione Sotto tanti punti di vista Non solamente in termini di Gameplay O comunque di meccaniche di gioco Ma anche di costruzione Di un universo Che in Metal Gear Solid 4 Si fece molto più complesso Senza contare appunto il fatto Che ebbe anche Diverse nuove Meccaniche Di gioco Che lo resono Molto più complesso Anche da un punto di vista Puramente di gioco Però Diciamo che nel complesso Gioco molto molto bello Ma che non riesco A mettere più su Perché al di là Dei suoi innegabili pregi Mi fece soffrire Un bel po' Quarto posto Metal Gear Solid 2 Il criticatissimo Ma perché Non c'è Snake Mi ricordo All'epoca A momenti C'era una rivoluzione Perché Hanno messo Un protagonista nuovo Che non lo vogliamo Noi il biondo Non lo vogliamo Oh Pure Rider Secondo me Lì Ci stava bene Fu un capolavoro A livello Di pianificazione Cioè Spiazzare il mondo Con un'avventura Che ha L'amatissimo eroe All'inizio Piccola Piccola parte E poi Una persona Che tu non conosci E che manco Vorresti conoscere Cioè Farci un parallelo Forte Credo E l'ho sempre pensato Onestamente Ma non l'ho mai detto Adesso c'è occasione Quindi lo dico Che The Last of Us Part 2 Sia fortemente Ispirato Nelle intenzioni A Metal Gear Solid 2 Perché se ci fate caso Condividono La medesima Caratteristica Tu compri il gioco Pensando che Lo passerai Nei pa... E poi colpo di scena Colpo di genio Il team di sviluppo Ti spiazza completamente Ti leva il treno Sotto i piedi E ti lascia Di fronte a un personaggio Che tu detesti Perché Credo che l'odio Che abbiamo provato Per Abbey Che il mondo Ha provato per Abbey All'inizio Sarebbe stato Il medesimo Che avrebbe provato Per Raiden Se ci fossero stati I social All'epoca Così sviluppati Eeeh Altro che Le minacce Che hanno mandato A quelli di Naughty Dog Ehm Per cui Molto molto simile Molto molto simile Anche il principio Secondo cui Tu appena lo vedi Il protagonista nuovo Lo detesti Lo vorresti cancellare Dall'universo Però poi E credo che Raiden Sia uno dei personaggi Più interessanti Che si siano visti Negli ultimi Trent'anni Di videogiochi Ehm Terzo posto Metal Gear Solid 3 Ragazzi La storia di Big Boss Quei meravigliosi Quelle meravigliose Boss Fight In linea Con la qualità Straordinaria Di una serie Meravigliosa Che Hideo Kojima Ha sviluppato Ha cresciuto Nel corso degli anni Con una Con un amore Con una passione In Metal Gear Solid 3 Viene fuori Forse Forse Se dovessi dire A livello Puramente qualitativo Quindi cercando Appunto Un'analisi oggettiva Forse Metal Gear Solid 3 È quello complessivamente Più bello Di tutti Ma questa è una classifica Personale Per cui Non metto da parte Un po' L'oggettività Per andare col cuore Ma al di là di questo Metal Gear Solid 3 Forse è Quello più Più bello Per Per intensità Per pathos Per direzione artistica Per personaggi Per Per Un po' Tutto Ma Secondo posto Metal Gear Solid Quello per Playstation 1 Titolo Meraviglioso Che ho giocato Infinite volte Titolo che ho provato A forzare In infiniti modi La scena di Psycho Mantis È Forse La sequenza Più geniale Del mondo Videoludico Di sempre Penso che un momento Così Ispirato Così Intelligente Così Creativo Sia Sia Stato Cioè Non sia mai stato Raggiunto Un livello Di Qualità Nel game design Come Il combattimento Con Psycho Mantis Compresa La necessità Di cambiare Il posto Del pad Mettendolo Cioè Ragazzi Ma di che stiamo a parlare Ma c'è ancora gente Che lo discute Che lo contesta Kojima Senza Kojima Saremmo tutti Molto più tristi E ci saremmo E saremmo molti meno Date retta Perché tu Cioè Ogni personaggio Di quel fottutissimo Gioco È un'opera d'arte Ogni secondo Di quel Gioco È un È È un pezzo Di paradiso Applicato Al pixel Voglio dire Io Io veramente Se ripenso A quel gioco E vi dico spesso Ah io mi dimentico Tante esperienze Perché col tempo Giocando tante cose Metal Gear Ce l'ho qua Ogni secondo È fissato Nella mia mente A fuoco Non riesco A dimenticare Nulla Di quel Prodotto Una roba Fantasmagorica Monumentale Biblica Nella narrazione Nella caratterizzazione Dei personaggi Non c'è Un personaggio Fuori luogo Non c'è Un momento In cui Cala la tensione Non c'è Niente Che sia Rivedibile Se non magari Il pezzo Delle 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 tessere Da scaldare Che mi fece uscire Di testa Quella Quella parte Con le temperature Perché L'ho trovato Volevo arrivare A dunque Ma allungava Il brodo E non mandava Lì per lì Lo ricordo Con frustrazione Ancora adesso Però vedete Quanto è ancora Viva l'emozione Dentro di me È come se lo stessi rivivendo Ehm Parlo per questo Mio amore Per Metal Gear Solid Metto in prima posizione Metal Gear Solid Twin Snakes E qua so che tanti Ah ma come hai potuto Ma quello Non è il vero Io Allora Una delle console A cui sono più affezionato Che se dica Ah tu sei Sonaro O Ah tu sei Boxaro Io Uno dei Anzi Una delle console Che ho amato di più Nella mia vita Per ragioni Che non riesco neanche a spiegare È il Gamecube Quando Uscì Twin Snakes Sul Gamecube Io Ho vissuto uno dei momenti più belli Della mia vita videoludica Perché ho riscoperto Il mio grande amore Tolto Broken Sword Ehm Con una tecnologia più avanzata Che me lo ha fatto Riapprezzare E all'epoca ricordo Ehm Lo stupore La meraviglia Il L'amore Per un prodotto Che era stato rifatto Ehm Ed era stato rifatto Tecnicamente meglio Per cui era tutto più affascinante Era tutto più curato Per quanto la direzione artistica originale Fosse Infinitamente Ehm Meravigliosa Ma Non lo so Mi suscitò delle emozioni così belle A cui sono così legato Che non potevo non metterlo al primo posto Perché Twin Snakes Veramente è E E E E Forse il primo remake Bello Veramente bello Che c'è stato Un prodotto Ehm Che io ho fatto Carte false per recuperare Poi Secondo Ho perso l'originale In un traslogo L'ho dovuto recuperare I sarti di mortale Per il viallo Non è anche più un game kumbio Tra l'altro Però il gioco si Ehm E di conseguenza Insomma Per me Twin Snakes Ha un sapore particolare E l'ho voluto mettere al primo posto Perché A A A questo gioco Sono legati tantissimi ricordi Meravigliosi Di un periodo Forse uno dei pochi Veramente belli Della mia Infanzia Per cui Insomma Ha un valore affettivo Ecco Mettiamola così Detto ciò Ragazzi Sta A voi Fatemi sapere cosa ne pensate Della mia classifica Ma soprattutto Sono curioso di sapere La vostra Chi mettereste Al primo posto Voi Fatemi sapere nei commenti Curiosissimo E ovviamente Andremo avanti Poi con queste tellies Perché ce ne sono alcune Che sono Intrigate A quella da Sviscerare E lo faremo Nel prossimo futuro Spero non essermi Dimenticato niente Perché ho In testa Un Da quando ho iniziato Come se mi fossi Dimenticato qualcosa E sicuramente è così Ma L'ho detto tutti Sì Però mi sembra di no Vabbè Tanto ci sarete voi A dirmelo nei commenti Mi sa che mi sa C'ho un È come se ci fosse Un tassello mancato In quello che ho detto Che cosa ma Devo andare a vedere la collezione Ragazzi Alla prossima Alla prossima Grazie a tutti.